Guardi sugli asili direi che abbiamo ottenuto un grandissimo risultato e lo rivendico con forza perché come sanno i cittadini romani, come sanno bene le precarie, da quando eravamo all'opposizione ci siamo battuti affinché questa piaga, mi permetto di chiamarla così, delle precarie storiche che per anni sono state sfruttate e poi sono state abbandonate dall'amministrazione capitolina ecco, diciamo questa brutta avventura per loro potesse trovare una conclusione invece degna e dignitosa e devo dire che con la nostra parlamentare Silvia Chimienti e con molti altri parlamentari abbiamo fatto molta pressione finché il ministro Madia ha inserito l'articolo 17 all'interno del decreto degli antilocali quindi francamente respingo al mittente tutte le accuse fatte fino adesso perché è chiaro che il PD se ne sia lavato le mani per oltre 20 anni e comunque negli ultimi tre anni